Nulla di buono per l'economia se cade il governo, lo pensa Stefano Caselli, economista e prorettore di affari internazionali all'Università Bocconi. Dopo che mercoledì il presidente del Consiglio Mario Draghi parlerà alle Camere e poi si voterà la fiducia, ci sono essenzialmente tre scenari possibili. Si prosegue con la stessa maggioranza, un nuovo governo sostenuto da una nuova maggioranza o la convocazione di elezioni anticipate. Se ci saranno cambi alla guida del Paese ci saranno ripercussioni sul piano economico. Innanzitutto un rallentamento nell'attrozione del PNRR e il rischio concreto di perdere finanziamenti e opportunità. Ora la parte, mi passi il termine ordinaria, corrente, andrebbe avanti ugualmente, però è chiaro che il rischio di rallentamenti, il non poter effettuare o fare delle riforme, perché un governo che ovviamente porta al Paese elezioni anticipate e non è nella pienezza dei suoi poteri, beh questo farebbe perdere delle opportunità all'Italia, farebbe perdere anche la possibilità all'Italia magari di attrarre investitori internazionali che vogliono investire sul nostro Paese. Molto probabile anche la perdita di valore dei titoli di Stato italiani, un danno diretto per chi li possiede e in generale tassi di interesse più alti per tutti. La conseguenza brutta è che il nostro Paese deve spendere di più in interessi, quindi deve fare più spesa pubblica e per fare spesa pubblica deve aumentare ovviamente il debito. Oltre a una cosa che ricordo sempre, spendere in tassi di interesse vuol dire non spendere in altre cose che si chiamino scuola, si chiamino sanità, si chiamino infrastrutture, quindi è veramente un danno importante. Tassi di interesse più alti significano anche naturalmente spese più elevate per chi ad esempio paga dei mutui. Caselli auspica che il governo Draghi possa continuare a lavorare anche per altre partite che sono aperte al momento in campo internazionale. E soprattutto il governo Draghi avrebbe davanti un buon numero di mesi per lavorare sull'attuazione del PNRR, per poter contribuire, questo ricordiamocelo, Draghi è uno dei leader più autorevoli sullo scenario internazionale, per poter veramente contribuire a un percorso di pace all'interno dell'Ucraina che oltre a risolvere una tragedia umanitaria ovviamente risolverebbe anche molti problemi che ormai si rovesciano su molti paesi occidentali.